Visita l'ampo di Angela Merkel in Turchia dopo mesi di blocco nel processo negoziale fra Ankara e Bruxelles e in piena crisi migratoria. L'offerta della cancelliera è quella di trattenere il numero più alto possibile di migranti in cambio del rilancio del processo di adesione. Dall'inizio della guerra in Siria la Turchia è in prima linea nella crisi. Almeno 2.200.000 siriani sono arrivati sul suo territorio dispersi nelle grandi città. La maggior parte sono in transito con in testa l'Europa e il vecchio continente chiede ad Ankara di dissuaderli. Il presidente Erdogan sa di avere un indubbio vantaggio per ora. Le esigenze dell'Europa, ha detto, debbono essere compatibili con le nostre. I nostri partner lo hanno accettato nell'incontro avuto con la controparte europea. Non si risolve il problema senza la Turchia. Quindi, se il problema non è risolvibile senza la Turchia, perché non si accetta la Turchia nell'Unione Europea? Erdogan non poteva porre questa domanda in un momento migliore dal suo punto di vista. In piena crisi politica, con i partner europei che navigano a vista, eppure, come hanno fatto notare in parecchi, la Turchia non era invitata al summit sulla crisi migratoria dei 28 paesi europei. Euronews ha sentito un esperto nei rapporti fra Bruxelles e Ankara per comprendere qual è la posta in gioco e le possibili soluzioni in una crisi come questa.